E dopo sette risultati utili consecutivi, si ferma la marcia del Vasso Girardi. Al Civitelle, giallo celeste di Farina, cadono nel derby con l'Olimpia Agnonese, che, già al quarto, si fa vedere con Conè. Macaparro para. All'ottavo ci prova Chiare Mateng, ma usa il fioretto in luogo della sciabola. Al ventunesimo, però, l'Agnonese passa. Viscovic si beve mezza difesa ed infila in fondo al sacco la rete del vantaggio. Al ventiduesimo, la risposta dei padroni di casa e di Fazio. Ed al trentaduesimo ci prova Nespoli, ma l'estremo dell'Agnonese è determinante, come al quarantaquattresimo su Varsi. Al cinquantaseiesimo l'Agnonese farebbe anche due a zero, ma l'arbitro annulla sull'azione partita dal calcio piazzato di Barbato. Sempre Agnone pericolosa al cinquantanavesimo con Minacori. Un minuto dopo, Frabotta commette fallo su Chiare Mateng e il Vasso Girardi realizza il pari con il Coloned dagli undici metri. Al settantesimo, però, è ancora Viscovic con una bordata a dare quello che è il successo definitivo all'Agnonese. Grazie a tutti, grazie a tutti.